E chi è stato al Carnevale di Fano avrà notato sicuramente lo staff di Lo Becca Film intento a riprendere ogni dettaglio dell'evento più antico e dolce d'Italia. Infatti nei prossimi mesi uscirà il film del Carnevale di Fano diretto da Andrea Lodovichetti. Buonasera Andrea, benvenuto nei nostri studi. Buonasera e buonasera a tutti. Ieri si è chiuso ufficialmente il Carnevale di Fano 2024, quindi intanto le chiedo come sono andate le riprese. Le riprese sono andate benissimo per quanto stancanti, perché documentare tutto quello che avviene in una manifestazione così complessa non è semplice, tenendo conto anche del fatto che gestire una squadra di 25 persone in un contesto in cui di persone ce ne sono migliaia non è semplice, però quando si ha una grande squadra si è anche più tranquilli e sicuri del risultato. Sono tutti del posto? Allora la maggior parte sono fanesi, compresi ovviamente i due coautori Nicola Nicoletti e Luca Caprara e altri reparti sono fanesi, non cito i nomi perché sarebbero troppi, però sono fanesi e tutti quelli che non sono di Fano sono comunque marchigiani, quindi siamo tutti della zona. Chi saranno invece i protagonisti di questo film? I protagonisti saranno due, sarà Simone Di Otallevi che a Fano conosciamo tutti perché è il Voulon, maschera ufficiale del Carnevale di Fano e il co-protagonista sarà un bambino che abbiamo scelto dopo una selezione infinita che ci ha messo in grande difficoltà. Ricordo che avate lanciato un appello insomma. Sì, bambini bravissimi e bellissimi, però una scelta è d'obbligo perché il protagonista doveva essere uno e lui si chiama Edoardo Pignataro che è diventato il nostro protagonista e con cui ci stiamo divertendo follemente. E abbiamo visto anche ieri sera in diretta su Fano TV in occasione dell'estrazione della lotteria. Dunque la struttura narrativa prevede non soltanto immagini attuali ma anche filmati di repertorio. Sì, la struttura del film prevede, ed è una forma inedita rispetto a quanto esiste già sul Carnevale di Fano, una parte di finzione e di ricostruzione sulle quali non vorrei adesso spoilerare come si suol dire, una parte di interviste di vario tipo e una parte di materiale di repertorio. Materiale di repertorio che ci è già arrivato e ci continua ad arrivare e mi porta a dire senza possibilità di essere smentito che in questo film ci saranno immagini realmente inedite che nessuno ha mai visto sul Carnevale di Fano. Fantastico. E chiediamo anche la disponibilità dei nostri concittadini a segnalarci o ad inviarci il proprio materiale che potrebbe confluire all'interno della struttura narrativa del film. Proprio ieri c'è arrivato del materiale praticamente inedito che noi siamo stati ben lieti di accogliere. Vien da sé che garantiamo la massima cura, perché sono sempre cose delicate e preziosi, quindi la massima cura nell'utilizzo di bobine di pellicola o di VHS o di qualsiasi formato e restituiremo ai legittimi proprietari, oltre al materiale originale, anche la versione digitale. Quindi c'è anche la possibilità per chi magari non ha mai avuto modo di farlo prima di avere anche la versione digitale dei file che vengono dalle loro cantine, dalle loro soffitte. Quindi quali saranno le prossime fasi? Le prossime fasi, una si incrocia alla successiva che è la gestione di una parte delle interviste che abbiamo già identificato, abbiamo già pre-contattato, e la costruzione dei tre set in un teatro di posa, che appunto saranno lo scenario per la parte di finzione. Quindi il reparto scenografia è già al lavoro e adesso faremo convergere queste due cose in un'unica direzione. Insomma il carnevale diciamo che è finito, noi abbiamo appena cominciato. Quando uscirà il film? Contiamo di farlo uscire per l'estate. Non vediamo l'ora di vederlo. Intanto buon lavoro e Fanu TV vi seguirà passo passo in tutto quello che sarà il vostro lavoro. La vostra collaborazione è sempre preziosa, grazie. Grazie Andrea, grazie per essere stato con noi.